Le imprese balneari che da decenni offrono un monitoraggio costante del territorio sia da un punto di vista ambientale che della pubblica sicurezza e della balneazione potrebbero essere messe in difficoltà a causa della direttiva Bolkestein. La normativa comunitaria volta a facilitare le procedure amministrative per chi intende stabilirsi in un altro paese al fine di prestare i propri servizi rischia di favorire grandi colossi esteri interessati ad accaparrarsi in teri tratti della costa italiana. Infatti la cosiddetta direttiva servizi prevede che le attuali concessioni in essere sul demanio marittimo non potranno più essere rinnovate automaticamente e dovranno essere oggetto di un bando europeo con procedura di evidenza pubblica alla scadenza temporale di ogni concessione. E' dunque evidente la preoccupazione per gli attuali concessionari spesso rappresentati da piccoli imprenditori che vedrebbero vanificati gli sforzi compiuti in lunghi anni di lavoro nella creazione di stabilimenti balneari e strutture annesse senza tralasciare che in virtù dell'articolo 49 del codice della navigazione, qualora cessi una concessione le opere non ammouibili costruite sulla zona demaniale resterebbero acquisite dallo Stato senza alcun compenso o rimborso salvo che l'autorità concedente non ne ordini la demolizione. Di tutto questo si è discusso a Roma in una riunione del tavolo tecnico di coordinamento sul demanio marittimo alla quale ha preso parte anche l'assessore regionale del Molise Pierpaolo Nanni. Quest'ultimo ha ribadito come lo Stato italiano così come gli altri europei stia lavorando ad interventi tampone per salvaguardare i 30.000 operatori interessati dagli effetti della direttiva. È però fondamentale, ha sottolineato Nanni, elaborare un modello ampio e strutturato che regolamenti le concessioni ai balneatori facendo leva magari su investimenti ed attività precedenti, evitando il negativo impatto economico che la Bolkestein potrebbe generare.